ciao veniamo ai modifier di generazione allora uno che si usa molto e mirror mirror e lo specchio e quindi se io lo seleziono posso scegliere l'asse sul quale applicare il mirror possono essere anche più di uno e quindi guardate adesso ho scelto x questo è l'asse x quello che disegno su un lato appare anche sull'altro lato e quindi è un modo per ripetere il disegno dall'altra parte se lo disattivo mi accorgo che il disegno esiste da una parte sola ovviamente posso disegnare da tutti e due i lati e sembra la stessa cosa però ricordatevi che invece se disattivo mi accorgo che questo segno appartiene a questo lato e questo a quest'altro quindi potrebbe essere un po' fuorviante di solito è meglio cercare di utilizzare sempre lo stesso lato attenzione appunto che anche qualcosa che attraversa lo specchio viene copiato di qua e di là permette di creare diciamo dei disegni tipo mandala possono andare bene per creare dei degli stilemi floreali delle cose del genere non sono limitato all'asse x se lo disattivo posso scegliere per esempio asse y che in questo caso non lo noto perché è quello che viene verso di me o asse z e vedete in questo caso dall'alto in basso posso attivarmi anche più di uno e quindi in questo caso vedete si ripete sui quattro lati il disegno può essere utile per disegnare personaggi quindi adesso seleziono tutto e cancello se disegno un personaggio avere avere lo specchio può essermi utile per realizzarlo esattamente simmetrico dopodiché come tutti i modifier potrei anche applicarlo per cui nel momento in cui lo applico non posso farlo mentre disegno devo andare in object mode se lo disattivo vedete il disegno non è completo però se lo se lo applico in object mode adesso il mio disegno è effettivamente così in sculpt mode posso andare a sistemarlo a deformarlo anche in maniera non più simmetrica perché ho applicato la simmetria e quindi adesso il disegno esiste non simmetrico e posso modificare solo un lato e non l'altro e così via sono molti gli oggetti simmetrici e potrebbero essere dei veicoli nel caso di un veicolo magari preferirò l'asse z se lo se lo disegno dall'alto per esempio e quindi se dovessi fare un astronave vista dall'alto posso lavorare con con un mirror in questa direzione sull'asse z è comodo anche appunto per poter schizzare e ragionare sulle forme assicurandosi che ci sia il mirror e attualmente il mirror avviene sul centro dell'oggetto che posso vedere in object mode questo punto qua quindi se io spostasse il centro dell'oggetto sposterei anche il piano di simmetria ma è più interessante ancora eventualmente utilizzare un altro oggetto in questa posizione qua serve a quello se io creo un altro oggetto sulla scena di solito per queste cose appunto un empty è la cosa migliore e qui uso lenti come origine del mirror adesso spostare lenti significa spostare l'asse di simmetria e quindi andare a cambiare la forma dell'oggetto in questione quindi per esempio adesso il mirror avviene in questa posizione e quindi adesso ho ottenuto una forma diversa quindi può essere anche un modo per esplorare occhio appunto vedete che cercavo di cancellare di sopra e non potevo perché il disegno era di sotto e quindi bisogna un pochino appunto come dicevo capire se ho disegnato di sopra o di sotto nel dubbio disattivate e capite dov'è il segno che volevate cancellare o migliorare e quindi adesso ho il mirror da un'altra parte e posso continuare il disegno con il mirror dall'altra parte in qualsiasi momento in object mode se riprendo il mio empty posso cambiare l'asse di simmetria e ovviamente ricordatevi che posso applicare il mirror e ottenere un disegno finito grazie e alla prossima